Iniziate a tremare! Non abbiamo paura di nessuno! Scatena i tuoi gormiti! Nuovi! Fortissimi! Ancora più di prima! Tutti da collezionare! Attenti! C'è Voidus! Ultralord Voidus! Ultralord Helios! E Ultralord Trition! Più grandi! Più forti! Indossa il nuovo Ultrapracer! Prova anche tu il potere dei gormiti! E con le armi degli Ultralord nessuno può resisterti! Combatti anche tu coi gormiti! ...